Guarda via! È Lulu! Una domanda? Beh, chiedi pure, piccola ragazza! È vero che questo parco non è altro che una copia spudorata del parco ben più conosciuto di Lucifer Lulu World? No? Questo posto puzzare in malsicura vergogna aziendale. Perché non andiamo a vedere le attrazioni? Quella stronza è inquietante. Aspetta che suo padre cerchi di invadere i tuoi orifizi. Ma che significa? Non parlarmi! Lo so che lì sotto si cela un pervertito. Già. Oh, guarda via! Ricordo che hai pianto lacrime di gioia per questa attrazione. Oh no. Odio quel fottuto clown. Oh, Blitzy? Mi serve il mio bodyguard, per favore. Oh, è felice! Grazie a tutti.